Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno della folla disse a Gesù, Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro, Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola, La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé, Che farò? Poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, Demolirò i miei magazzini, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, Anima mia, Hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, Stolto, Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Parola del Signore Sia lodato Gesù Cristo Il Vangelo che abbiamo ascoltato adesso, tratto dal capitolo dodicesimo di San Luca, ci dice diverse cose. La prima Noi non siamo chiamati Tra virgolette Ad aiutare, chiuse le virgolette Tutte le domande di bisogno che riceviamo Noi abbiamo un po' questa mentalità da crocerossina Una mentalità molto interventista Molto socioassistenziale, no? Per cui, ogni volta che qualcuno ci chiede aiuto Ogni volta che qualcuno ci chiede un consiglio Ogni volta che qualcuno ci chiama in causa Noi ci sentiamo in dovere A motivo di quella richiesta Che reputiamo essere sempre Giusta e doverosa Di rispondere Dando il massimo di quello che possiamo dare Gesù invece ci insegna che ci sono richieste Che non vanno esaudite Come ha fatto lui Perché sono domande Sbagliate Noi dovremmo imparare Prima di rispondere Alle persone Dovremmo imparare a capire Se la domanda che ci viene posta È giusta Se è una domanda corretta Perché se la domanda non è corretta Per diverse ragioni Non bisogna rispondere Dì a mio fratello Che divida con me l'eredità Noi subito cosa avremmo fatto Vieni Spieghiamoci Parliamo Perché non gliela vuoi dare Fate metà Bisogna andare d'accordo Bisogna trovare una via comune Bisogna evitare di fare un'ingiustizia Mettiamoci un tavolino E ci faremo mediatori A noi ci piace fare un po' Questi paceri Delle situazioni E Gesù dice Ma chi mi ha costituito giudice O mediatore sopra di voi? Non riconosco Mio questo compito Di mettermi Dentro le vostre questioni Inutili Secondo insegnamento Impariamo a stare lontano Dagli impicci Dagli impicci del mondo Dalle questioni Dalle questioni Faziose Dai litigi Dalle gelosie Dalle bramosie Da tutte le questioni Che si vengono a creare Tra gli uomini Perché non se ne esce mai in lesi E soprattutto E soprattutto non serve a niente A niente Noi entriamo A voler mettere Pace Diciamo così E usciamo Sconfitti E bastonati Perché non è il nostro compito Se non è compito di Gesù Non è compito di nessuno E Gesù Non Asseconda questa richiesta Cioè Non gli aiuta Non dà nessun consiglio Circa la questione In sé Non dice Tu fai così Tu fai cosà Tu prendi questo Tu prendi quell'altro Dividete tre quarti No Dice Questo non è compito mio E io non mi impiccio Di queste cose Gesù non si sporca Con la terra Di questo mondo Non entra in queste beghe Anzi Gesù dice A loro E a tutti State attenti State attenti Tenetevi lontani Da ogni cupidigia Perché se anche uno E' nell'abbondanza La sua vita Non dipende Da ciò che gli possiede Si saldi chi può La nostra vita Per noi È fondata Su ciò che noi Possediamo Soprattutto perché Noi vogliamo Possedere Tutto E tutti Noi vogliamo Possedere La vita degli altri Noi vogliamo Addirittura Possedere Dio Vogliamo Conoscere Dio Vogliamo Sapere Di Dio Vogliamo Sindacare I giudizi E i progetti E i progetti Di Dio Noi vogliamo Possedere Tutti Noi vogliamo Avere tutto Tra le mani Tutto Perfettamente Lucidamente Nelle nostre mani E Gesù Ci dice No La tua vita Non dipende Da ciò che tu hai Un fioretto Un fioretto Per questo giorno Che Ci fa capire Dovrebbe Potrebbe farci capire Quanto Quanto siamo Schiavi Del possesso Il fioretto È questo Capita a tutti Di leggere Un libro Speriamo Speriamo Di leggere Un libro E magari I più bravi Leggono tutti i giorni Speriamo Sennò diventiamo Analfabeti E E se un testo Interessante Magari un testo Di spiritualità Bello Eh ti viene voglia Di Ti appassiona E ti viene voglia Di andare un po' avanti Di finire Di vedere Come quel capitolo Poi finisci il capitolo E te ne vieni Sotto un altro Che leggi le prime righe Ti piacciono anche quelle Provate A dire Mi fermo qui Un fioretto Inizio a leggere E dico Ok Fini su questa pagina E poi non giro La prossima È difficilissimo È difficilissimo Perché noi Vogliamo Possedere Quel testo Non vogliamo dire Mi fermo qui Rinuncio Al possesso Domani Lo leggerò Rileggo magari Quello che ho già letto Per vedere se l'ho capito bene Per assimilarlo bene Per non consumarlo Divorarlo Bruciarlo Tutto ciò che noi possediamo Tutto ciò che noi possediamo Noi lo divorriamo Lo bruciamo Lo consumiamo Lo estegniamo Terribile Pensate al tempo Quanto noi Siamo possessori Del tempo E quindi noi diciamo Come dice qui Il testo No Domani Io andrò Tra un mese Io farò Dopodomani Incontrerò E poi dopo Ci vedremo E poi dopo Faremo Ma noi Chi ci dice Che stasera Siamo vivi E stasera Già l'obitorio E dopo Domani Funerale Ma noi Non ci pensiamo Queste cose Perché noi Possediamo Il tempo Infatti Quando tu A una persona Devi dire Guarda che Stai per morire È un dramma Terribile Ma In realtà Guardate che Tutti stiamo Per morire Tutti Stiamo Per morire Nel momento In cui nasciamo Noi stiamo Per morire Solo che Siccome Siamo Possessori Ci Illudiamo Di essere Possessori Del tempo Quindi Noi Non moriamo Mai E quindi Ad esempio Secondo Fioretto Impariamo Come quando Eravamo Bambini Purtroppo Non tutti Hanno avuto Questa grazia Impariamo Come quando Eravamo Bambini E ci Dicevano Alle ore Venti A letto Quando ero piccolo Io c'era il carosello E si vedeva Questo carosello Che adesso A parlarne Sembra che siamo Nel mesolitico Ma è pochi anni fa C'era il carosello E il termine Il carosello Tutti a letto Adesso abbiamo Bambini di Otto anni Che stanno svegli Fino alle undici Di sera Undici e mezza Mezzanotte Bambini Di elementari Questo disordine Dove si radica Nel possesso Del tempo Io possiedo Il mio tempo E faccio Quello che voglio E quindi Neanche vado Incontro Il mio corpo Alle sue esigenze Di riposo Andate a vedere Cosa dicono Gli studi Medici Sull'importanza Per tutto il corpo Dall'apparato Delle ghiandole Al cervello Al cuore Al metabolismo Al sistema nervoso Quanto è importante Il riposo Il sonno Non fa niente Noi non dormiamo Perché? Perché possiedo il tempo Fioretto di oggi Datevi un orario stasera Ma non stasera Ve lo dovete dare Adesso Dopo la comunione Vi date un orario Io stasera Per Le 21 Vado a letto Già uno gli viene In coccolone Dice Le 21 E chi dorme Alle 21 Come se Le 21 Stasera Alle 21 Guardate fuori dalla finestra E spegnete la luce Se non avessimo La luce elettrica Come qualche anno fa Alle 21 È buio pesto Oggi che va tanto di moda L'ecologia E la natura L'ecologia E la natura Ci insegnano Che alle 21 Devi andare a letto a dormire Perché è notte Ma io siccome Possiedo il tempo Fioretti piccoli Che però a farli Ti fanno vedere Quanto noi Siamo pieni Di possesso Terzo fioretto Il fioretto Della conoscenza Rinuncio Oggi A fare Domande E 3 B Parlo Solo Se vengo interrogato Mamma Questo poi Questa è la penitenza Peggiore del mondo Tenere la lingua Dentro Nel sepolcro Chiusa Morta Lì Ferma A riposo Oggi parlo Solo se vengo interrogato Se no Silenzio totale Non chiamo nessuno Non cerco nessuno Non scrivo nessuno Solo se vengo cercato Solo se vengo chiamato Solo se vengo interrogato Ma due persone Stanno dicendo una cosa Che ha bisogno di un consiglio Io lo so questa risposta Te l'hanno chiesto No Zitto Non dire niente Questa Rinuncia Al possesso Del sapere E del conoscere Del sindacare La realtà E la vita Degli altri E la rinuncia Del possesso Della parola Come se fossi muto Rinuncio Al possesso Di poter parlare Perché posso parlare Solo se possiedo La parola Ti fanno vedere Come la nostra vita Dipende Da ciò che noi possediamo E che potrebbe esserci tolto Potremmo perdere la parola Perdere l'intelligenza Perdere il tempo Morire La salute Potremmo perdere la salute E la nostra vita Si fonda sul possesso Della salute E via di seguito Io vi ho fatto Quattro esempi di fioretti Voi potete farne mille Da applicare Da applicare Alla vostra vita Per vedere Quanto la mia vita Sta dentro A questo imperativo Quanto tempo Passerai oggi Al cellulare L'abbondanza Non è ciò che mi Determina la vita Perché la mia vita Non dipende da questo La mia vita dipende Dal tesoro Che ho Presso Dio Lì Io Dipendo E allora Tutti questi fioretti Che ci siamo detti Dovrebbero farci Risparmiare Tempo Ed energie Per che cosa? Non per stare a guardare Per aria Ma Per Dedicarci Di più E meglio A Dio Alla nostra vita Interiore Alla nostra Intima unione Col Signore Al silenzio Alla preghiera Al raccoglimento Alla conversione Al pentimento Al pensare ai nostri peccati Ah sì Questi fioretti Ogni fioretto Ha lo scopo Ha uno scopo Un fine Quale? Quello di crescere Nella santità Come? Mettendo Dio Al primo posto All'unico posto Al centro Del mio cuore Siero dato Gesù Cristo Grazie a tutti